Sono molto contento. Dopo quello che è successo siamo molto contenti. Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo meritato di vincere. E anche Brima Collei è andato vicino al gol? Il gol. Sono andato vicino al gol ma non sono riuscito a fare il gol. Penso di continuare a lavorare. Secondo me arriva il gol. Quanta soddisfazione per te essere chiamato in campo da Giampiero Gasperini e dare questa risposta? Io sono pronto. Ogni volta mi chiamo il mister per entrare in campo. Quello che è importante è che devi lavorare di più in allenamento. Secondo me lo sto facendo ma non basta perché devi fare di più. Però stai già facendo tanto. Fai parte del gruppo della prima squadra e non hai poca cosa. Quello è un'altra cosa importante. Dopo un altro passo per andare in prima squadra, andare con loro in tutta la parte in Europa. Veramente sono molto felice di essere in questo gruppo. E Brima, bello anche vedere che hanno giocato altri tuoi giovani compagni di squadra. Da Bellanova a Ciborra, insomma a piccoli. Penso che siamo tutti facendo bene. Siamo facendo bene. E poi è normale di essere parte in questo gruppo. Tutti stiamo facendo bene. Bella Nova sta facendo ogni giorno allenamento. Ci sguora tutti i tamesi. Tutti altri. Un'altra cosa importante per loro è venire in un altro paese senza parlare italiano. Quindi stiamo facendo bene. E poi altri compagni mi stanno aiutando tutti. E Brima, adesso c'è il prossimo impegno perché questa Serie A è una partita dietro l'altra. Quindi testa subito all'Elas Verona. Sì, posso dire testa subito all'Elas Verona perché ogni tre giorni giochiamo. Quindi non sarà facile ogni partita che dobbiamo infrontare per giocare. Giochiamo così.